Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge nata su proposta del consigliere Jacopo Melio del PD per promuovere un'adeguata formazione del personale sanitario regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. L'atto modifica la legge regionale del 2012 e dispone che la Commissione regionale per la formazione sanitaria possa formulare proposte dirette a promuovere l'inserimento della materia nella programmazione della formazione continua regionale. Il Consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva votando all'unanimità questa proposta di legge che andrà ad inserire all'interno nel percorso di formazione continua offerto dalla regione ai medici di base un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi. Quindi si va a combattere quelle remore culturali che al colonio purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di sottanine e di sottanini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. C'è stato un lavoro importante in Commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza, delle modalità prescrittive e quindi con questa norma che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si devono inserire, che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati quindi anche i medici di base, tutta una parte di conoscenza sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana, perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta e quindi una politica specifica per aumentare la produzione in loco. La cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla, perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici, cioè ai tecnici, perché questo possa diventare realtà. Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi, cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura, di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di SLA, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. Intanto dobbiamo, quando si affronta questo tema, sgombrare il campo e dire che si parla appunto di cannabis medica che deve essere prescritta da un medico abilitato a questo tipo di prescrizione. Non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droge leggere. Sono due mondi completamente differenti. Da questo punto di vista la proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato su una proposta di cui il primo firmatario Jacopo Melio va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano proprio rispetto alle prerogative e all'importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono diciamo tecnicamente appunto aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario. ed è un tema. L'altro tema è quello della carenza grave di cannabis medica tanto che non può rispondere alla quantità prodotta, non può assolutamente corrispondere alle esigenze dei pazienti che ne fanno uso e che ne devono fare uso sottoponendo gli stessi a una rincorsa la mattina presto davanti alle farmacie ospedaliere che non è dignitosa e che comunque non va in questa direzione. L'unica struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia è l'istituto farmaceutico militare fiorentino. Da questo punto di vista penso che la regione toscana non fosse altra per questo motivo deve essere a vanguardia e mettersi appunto come regione pilota verso una battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale che è poi appunto una battaglia di civiltà nei confronti di tanti pazienti che possono utilizzare quel tipo di appunto medicinale avendo degli effetti diretti, importanti e tangibili. Questo è un tema a me caro perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone non si deve convivere con il dolore, il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale se si può sopperire al dolore lo si può utilizzare per fini terapeutici. La cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie all'interno prima nelle fasi appunto terapeutiche una volta individuata o diciamo una diagnosi che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze ha un centro d'eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana in primis per noi stessi ma anche a livello nazionale. Questo può portare lavoro ma soprattutto può portare sollievo a tante persone che soffrono. È un problema che aveva attivamente impegnato la ex ministra del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo che venne proprio all'Istituto Militare per cercare di capire quali fossero le quantità che si potevano produrre e soprattutto trasformare a scopo terapeutico. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni per alcune persone forse l'unica per riuscire ad alleviare dolori o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono la parte più problematica che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente psicotropa che contengono possono essere al contrario utilizzati magari come dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. È quel famoso passaggio dal privato al pubblico quell'interazione partenariato che appunto l'ex ministra Grillo aveva già promosso. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che vede come prima firmataria Elisa Montemagni della Lega per favorire compatibilmente con le disponibilità di bilancio un uso sempre più esteso del NIPT-Test fino ad arrivare a poterlo garantire a tutte le donne toscane in stato di gravidanza. Si tratta di un test che non mette a rischio la sicurezza della donna e del feto e la sua maggiore accuratezza riduce in modo significativo il ricorso agli esami invasivi di conferma diagnostica e inoltre considerato, sulla base delle evidenze scientifiche, gli test di calcolo del rischio di miglior qualità e sicurezza da inserire nel percorso diagnostico per le indagini prenatali delle trisomie 21, 18 e 13. Suo screening prenatale semplicemente io ho chiesto che si faccia quello che è stato fatto nelle altre regioni. In Toscana abbiamo il NIPT-Test che si fa tranquillamente utilizzando le analisi del sangue quindi a rischio zero sia per la mamma che per il feto che è uno screening che valuta la condizione delle trisomie del bambino nei primi mesi proprio di gravidanza e in Toscana il 50% viene ovviamente pagato dalla regione però ci sono regioni dove questo viene invece dato gratuitamente e riteniamo che sia invece utile anche in Toscana portare avanti una soluzione di gratuità per questo test perché riteniamo che sia a parte molto meno invasivo di tanti altri e che sia assolutamente più efficace rispetto al B-Test che facciamo ma questo non lo diciamo noi lo dicono i dati è attendibile fino al 99% e quindi ha un'attendibilità estremamente alta e sappiamo benissimo, le donne che ci sono passate lo sanno che chi invece va a fare il B-Test è una somma comunque di fattori in cui per esempio incide tantissimo l'età quindi sopra i 35 anni rischiamo di vedere dei valori sballati che ti portano a fare ulteriori accertamenti che spaventano la mamma e che magari oltretutto diventano anche costosi per il sistema sanitario perché quando si fanno accertamenti ovviamente vengono pagati questa è una soluzione per cercare di risparmiare e di avere risultati più attendibili in altre regioni è già gratuito e chiediamo che sia gratuito anche da noi in Toscana Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione per rafforzare la centralità della programmazione e della governance pubblica dell'RSA le residenze sanitarie assistenziali a partire dall'elaborazione a livello territoriale di un'analisi dei bisogni di salute della popolazione anziana dell'offerta assistenziale esistente e del fabbisogno di posti letto ed evitare possibili illusioni dei requisiti per l'apertura di nuove strutture a partire da quelli strutturali che prevedono una capacità massima ricettiva di 80 posti letto Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la risoluzione che ho proposto che riguarda la governance delle RSA cioè come e dove devono nascere le RSA nella nostra regione con quell'atto noi impegniamo sia la Giunta che il Consiglio a strutturare degli strumenti che permettano di guidare ovviamente non vincolare più di tanto ma almeno guidare la nascita delle strutture residenziali sul territorio regionale e poi chiediamo alla Giunta in particolar modo un'applicazione rigida forse troppo ma insomma attenta dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti riguardanti l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA in particolar modo i requisiti dimensionali sappiamo che in Toscana un RSA non può avere più di 80 ospiti divisi in due moduli da 40 questo è un requisito che vale per tutte le RSA chiediamo che anche quelle nuove ovviamente sia certi che non vengano adottate tecniche elusive di questo criterio che è un criterio che la Toscana ha dagli anni 80 e che incide sulla qualità del servizio per i nostri cittadini che sono ospiti dell'RSA Oggi il Partito Democratico ci chiede di votare un atto per difendere il sistema delle RSA toscane da eventuali aggressioni da parte di società multinazionali grandi potentati sanitari che potrebbero in qualche maniera minacciare la tenuta del nostro sistema bene, tutto vero abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali di questa ipotesi però ecco il sistema dell'RSA toscano non si difende con una mozione in aula il Partito Democratico da una parte ci propone un atto che chiede di difendere il sistema dell'RSA toscana e poi il Governatore Gianni il 14 di novembre va a inaugurare a Cecina la prima vera grande maxistruttura proprio frutto di questi tentativi straniere di infiltrarsi nel sistema toscano della gestione dell'RSA quindi qualcosa che cozza in realtà il sistema dell'RSA toscano si difende in altre maniere si difende magari rivedendo la quota sanitaria che da anni non viene rivista che oggi è frutto di un'altra epoca storica di una situazione pre-covid in cui probabilmente la gestione di queste strutture era completamente differente da oggi e che oggi avrebbe bisogno di una revisione a rialzo importante e allora noi abbiamo chiesto al Partito Democratico se davvero erano intenzionati a rivedere il sistema dell'RSA toscano di difendere il sistema dell'RSA toscana di fare un ragionamento complessivo in commissione la risposta è stata no se loro pensano attraverso una mozioncina votata in aula di aver già assolto al problema di difendere questo sistema tutto nostro tutto toscano evidentemente sbagliano sbagliano e lo dimostra il fatto appunto che mentre loro parlano di difendere il sistema esistente il governatore va a dare il benvenuto ai capitali stranieri che arrivano investono e costruiscono maxi RSA che vanno contro la legge regionale perché noi abbiamo una legge regionale che stabilisce in 80 posti letto il tetto massimo per l'arreditazione di un RSA e a Cecina si realizza un complesso da 1500 posti letto quindi evidentemente c'è qualcosa riccozza